Ciao ragazzi, buongiorno, siamo al centro campania, non so se si vede, non proprio in diretta, vabbè comunque, stamattina è una giornata di merda, con me ci sono Anna e Ananita. Bacioni. La borsa con quanto? 50 euro? Un centinaio ne spesa. Mi interessa. Quindi, ora ci addentriamo al centro campania perché dobbiamo fare spese folli, qua ora la gente verrà e spero che non ci sarà tantissimo casino, ci dobbiamo ricordare del posto della macchina. Va bene, allora ci aggiorniamo dopo, un bacio, ciao ragazzi e mi raccomando, dovete spendere centinaia di soldi per le borse colorate di Ananita. Mi piace, ora lo compro. Anna, ho proprio come lo sbarazzino. Simon. Ma oggi è meno Simon. Anna, però tu non ti sei fatta vedere quella margherita. No, con il girasole. Ah, girasole, ma scusami, tieni. Ho sbagliato, ma è un fione. Ragazzi, ho combinato il guaio. Assurdo. Guardate, sono sento appiccino a una venticella e sto aspettando ad Anna e Anita. Sto aspettando Anna ed Anita. Non so se sentite il vento, sentite me. C'è tantissimo vento, i capelli, i capelli sono una merda. Vabbè, se no se sentite metterò la musichetta mongoloide. Il tempo è un po' uno schifo. Niente, non mi vedo. Quindi non so che cosa sto riprendendo e cosa non sto riprendendo. Soffro a qualcuno per Campania. Allora non se ne posso andare perché io ho la macchina bene. Quindi c'è anche il carretino dell'Avis, ma io ho già donato da una settimana. Avis, se mi vedete, io ho donato davvero. E niente, mo' la gente passa, mi crede una pazza che sto parlando nella videocamera, ma non mi interessa. Allora non mi vedo. Ciao, ma stai facendo video? Brava! Niente, ora ci stiamo ritirando, poveri stessa, con unissimo di soldi. E niente, il tempo è migliorato. Stamattina, allora queste sono le anticipazioni, le anticipazioni, queste live meteo sull'autostrada, insomma. E c'è un bel tempo, diciamo, un po' lezze qua e là, però si è ripreso. E questa mattina faccio attivare a sto grigio. Questo è il birthday di Vincenzo, invece, a casa mia. Ora facciamo un bello scherzetto e diciamo che è caduta la torta. Lo spumante, oh Dio, Dio, il spumante. Qua stanno cadendo le candeline del nostro non compleanno e del suo compleanno. Andano a ridere, che cade tutto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Vincenzo. Happy birthday to you. Happy birthday to Vincenzo. 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 ti fa inquadrare, ciao bella gente, aspetta vediamo se si crea, un'altra volta, siamo qui per il compleanno di Vincenzo, Vincenzo è il compleanno per la casa mia, Roberto diceva fare foto, qua abbiamo Francesca, l'amica della gente, zoomiamo sul festeggiato, Vincenzo ha un discorso, Vincenzo, facciamo lo zoom nella torta, buon compleanno Vincenzo, intanto qua abbiamo amici, Roberto è l'incendiaio, Roberto è già Pizzetto One, ok, discorso, ma ringrazio a tutti per la presenza di tutti, poi sono felice di nuovi amici che non vi do niente perché non c'ho gli occiali, non vi do niente, sono i piedi, veramente ringrazio Riana per l'ospitalità, per l'ospitalità, per l'ospitalità, per l'ospitalità per l'ospitalità, per l'ospitalità, per l'ospitalità, l'aria bollino nero, per l'ospitalità, 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 per l'osp Buon cuore che ti sia Patricia, Bruna, Vincenzo e rimandi sempre alla nostra Zokoloski. Number one, ti vogliamo bene, buon compleanno, più venti. Grazie per la visione!